E' arrivato nella vostra città, il circo, il grande spettacolo che attende, il circo con gli animali esotici, cammelli, tromedari, elefanti, zebre, lama peruviani, cavalli, cavallini poni, serpenti, procorrini, e per la prima volta in un circo di piraglia del Rio delle Amazzurini, con l'immersione di un giovane sub nella grande vasca panoramica, il circo della televisione è arrivato nella vostra città. Il circo, un grande spettacolo che attende, il circo... Non è sassati! Il circo... Non è sassati! Non è sassati! Hai dato offenza a me! Non è grevio a prendere me! Io non offendo nessuno! Io non ho tolto dietro perché sono stato io il mio sassato! No, lo pensi a sento! No, ti lo metti in siloccio! Ehi, fene! Eh, sì, si l'acchio! Cosa pensi di farlo? Che tu li temi, tu? Vabbè, non ci sono! Vabbè, 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 vabbè! Non sento niente? Non c'era, avevo girato dopo. Non c'era, avevo girato dopo. Non c'era, avevo girato dopo.